Buonasera da Infostudio, ore di paura, circa 3 questo pomeriggio a Corigliano, Calabro, dove un uomo si è barricato in casa dopo aver sparato contro il figlio e la moglie del figlio, cioè contro la nuora, ed averli anche feriti il figlio in maniera particolarmente grave. La cosa strana, curiosa, è che due episodi analoghi sono accaduti a distanza di poche centinaia di chilometri, tra questo pomeriggio e questa sera, anche a Bellona, nel Casertano, un uomo si è barricato in casa e ha sparato contro però alcuni passanti, ne ha feriti 5. A Corigliano, ripeto, il terrore è durato per circa 3 ore. Cosimo Sisto, 85 anni, nel primo pomeriggio ha sparato con una pistola contro il figlio, Francesco, di 50 anni, e contro la moglie, di 42 anni, ferendoli gravemente. Non si conoscono ancora i motivi del gesto, anzi si attende l'interrogatorio del feritore ed anche della moglie di questi, magari delle vittime, quando potranno, saranno in grado di parlare per capirne di più. Comunque l'anziano, che è titolare di un panificio, ha sparato contro i parenti e poi si è chiuso in casa. Le forze dell'ordine che avevano circondato il caseggiato hanno dovuto lavorarci un po', ma alla fine sono riusciti a convincerlo, a consegnarsi, lo hanno portato in caserma, dove è stato sottoposto, lo stanno sottoponendo ad un interrogatorio. Secondo le informazioni che trapelano dall'ospedale di Corigliano, il figlio sarebbe in coma farmacologico. Il duplice ferimento è avvenuto comunque, quello sembra certo, almeno secondo le testimonianze di alcuni vicini di casa che hanno sentito delle urla, sarebbe avvenuto al culmine di una lite per dissidi familiari. Ma, ripeto, si dovrà ancora attendere prima di ricostruire esattamente la dinamica di quello che è successo. Le indagini sono condotte dalla Procura di Castrovillari. Veniamo al processo Breakfast, il processo per la procurata in osservanza di pena, ovvero gli aiuti dati all'ex parlamentare di Forza Italia, Medeo Matacena, perché potesse essere latitante, perché potesse fuggire negli Emirati Arabi, dove tuttora è riparato, e poi perché potesse rimanervi ed essere latitante. Ci sono novità che però probabilmente non lo riguardano, proprio nel trattato di estradizione tra Italia e Emirati Arabi, circa il trasferimento di persone che sono state arrestate negli Emirati Arabi per reati che però riguardano la nostra giurisdizione. Intanto, notizia di questo pomeriggio, è stato confermato che Sidio Berlusconi dovrebbe essere in Calabria, dovrebbe perché poi, chiaramente bisogna vedere se ci verrà, il 5 febbraio dovrebbe essere a Reggio Calabria per testimoniare nel processo contro Scaiola, contro la moglie, Chiara Lizzo, poi, ripeto, bisogna vedere se Berlusconi ci verrà, questo potrebbe in qualche modo complicare la campagna elettorale del leader di Forza Italia. Scaiola oggi ha fatto alcune parziali ammissioni, non ho mai negato di essermi interessato per far ottenere l'asilo politico a Matacena, ha detto, ma continuo a pensare che non sia un reato, semmai una questione inopportuna, vedremo quello che ne pensa il Tribunale. Comunque, nel processo in cui Scaiola è imputato insieme alla moglie di Matacena, Chiara Rizzo, vi ricordo che Matacena è stato condannato definitivamente a tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, secondo i giudici sarebbe stato un referente del clan Rosmini, oggi è stato sentito anche un funzionario di Banca Carige, Banca Carige è la banca alla quale il ministro dell'interno Scaiola fece voti perché potesse ottenere la moglie di Matacena, Chiara Rizzo, lo spostamento di ingenti somme di denaro da Montecitorio a Nizza. L'operazione però non andò in porto perché lo stesso funzionario si rifiutò di aderirvi. E questo perché, fra le altre cose, Scaiola avrebbe detto al funzionario che Matacena aveva qualche problema con la giustizia, ma aveva atteso a minimizzare questi problemi. Poi il funzionario però si è documentato, ha scoperto la condanna definitiva a carico dell'ex parlamentare di Forza Italia e anche il fatto che era latitante e per questo decise di non accogliere la richiesta del allora potente uomo politico. Fra le altre cose c'è da dire che il fratello di Scaiola all'epoca era il vicepresidente di Banca Carige. Il processo vi ricordo è in corso di svolgimento al Cerdir di Reggio Calabria e nel corso dell'udienza di stamane il funzionario ha spiegato che la richiesta di Scaiola avvenne in maniera informale. Gli fu detto che la Rizzo era interessata allo spostamento di queste somme contestate a lei e dalla suocera per motivi personali, ma alla fine, come abbiamo già detto, la cosa non ebbe luogo. Sono ricandidati i parlamentari uscenti del Movimento 5 Stelle in Calabria. Dalila Nesci sarà la caponista in uno dei due collegi, il collegio Calabria 2, per la precisione nel proporzionale, mentre l'altro parlamentare uscente Paolo Parentella sarà nello stesso collegio il numero 2, capolista al Senato Nicola Morra. Gli altri sono più o meno tutti dei volti nuovi. Federica Dieni, anche Federica Dieni a proposito è stata ricandidata, quindi parliamo di 4, 3 alla Camera e 1 al Senato riconfermati. La candidatura di Riccardo Tucci è l'unica nuova nel collegio per la Camera Calabria 2. Invece per il collegio Calabria 1 i candidati saranno Francesco Forciniti, che sarà il capolista candidato al Consiglio regionale. Forciniti nel 2014, era la prima volta allora che i 5 Stelle si presentavano per le regionali in Calabria. E poi Elisa Scutellà, Alessandro Mericchio e Luigia Leone. Il capolista, abbiamo già detto, nel proporzionale al Senato è il senatore uscente Morra. Gli altri sono Giuseppe Audino, Maria Pompilio e Bianca Laura Granato, che è l'altro volto in qualche modo già noto perché Bianca Laura Granato venne candidata a sindaco dal Movimento 5 Stelle nelle elezioni comunali che si svolsero nel giugno del 2017 a Catanzaro. Ancora non si sbilanciano gli inquirenti sul fatto di cronaca di Crocevalanidieri. È stato ritrovato in un casolare completamente bruciato dalle fiamme, un incendio si è sviluppato, per questo sono arrivati i vigili del fuoco, però quando si sono messi a lavoro e sono accorti che all'interno c'era il corpo ormai quasi completamente carbonizzato di un uomo o di nazionalità indiana. Sul suo corpo, sul cadavere, ovvero il medico legale ha notato segni di violenza e quindi è probabile che l'uomo sia stato prima ucciso e poi il corpo dato alle fiamme per cancellare ogni traccia, ma un parere più chiaro in tal senso arriverà solo dopo l'effettuazione dell'autopsia. Michele Camillo, che nascondeva in casa armi e numerose munizioni, è stato arrestato a Vibo Valencia dai carabinieri a numerosi precedenti penali. In casa sua sono stati trovate, nascosti in un'intercapedine ricavata nel vano del contatore della luce dell'energia elettrica, quattro sacchetti di stoffa all'interno dei quali i carabinieri hanno trovato due pistole clandestine, una calibro 9 e una 7,65, un revolver, anch'esso non censito, e 350 proiettili di vario calibro. Tutto il materiale, armi e munizioni, sono state sequestrate. Non sono chiari i motivi del ferimento del custode del cimitero di Vibo Valencia, Alessandrio Sicari, ferito ieri pomeriggio mentre si accingeva a chiudere la struttura, stava chiudendo il cancello a 48 anni Sicari, quando qualcuno gli ha sparato contro con una pistola, è stato ferito alle gambe e ad un braccio. Sicari ha capito il pericolo e è riuscito anche ad evitare che potesse essere ancora fatto oggetto di altri colpi. In quella zona, cioè nella zona del cimitero, non ci sono telecamere di sorveglianza e al momento dell'agguato, oltre al buio, stava calando sul luogo una fitta nebbia. È stato fermato l'uomo che ha investito, purtroppo ucciso un uomo e ha ferito la compagna che stavano attraversando la strada dopo essere usciti da un cinema lungo la Statale 106 all'Ocri sabato sera. La vittima, vi ricordo, era Pasquale Sgotto, titolare, 43 anni, titolare di una nota azienda di vendita di mobili e cucine e di un servizio di onoranze funebri a Siderno. La compagna, a 44 anni, è stata soccorsa ed è ricoverata adesso in prognosi, riservata all'ospedale di Locri. L'uomo si era subito fermato a prestare soccorso, la guida di una Mercedes classe B aveva travolto i due. Siamo adesso al calcio per parlare del successo, chiaro, importantissimo, in chiave classifica del Crotone che si è imposto al ventegodi di Verona per 3-0. Ha subito trovato la via della rete, poi dopo aver sofferto nel primo tempo il ritorno dei gialloblu, nel secondo ha letteralmente dominato, facilitato poi anche dall'espulsione di Zucurini che ha lasciato la squadra di Pecchia in 10. Ora, le distanze nei confronti dei gialloblu sono abbastanza rassicuranti, non altrettanto quelle nei confronti della Spalters Ultima, che ieri fra l'altro ha conquistato un importante pareggio sul campo dell'Udinese al Friuli. Zenga sottolinea nella dopo partita ancora una volta l'importanza degli acquisti effettuati per l'aggiunta qualitativa che hanno dato alla Rosa a sua disposizione, poi il fatto che siano stati effettuati anche con sollecitudine, che siano stati messi a sua disposizione già prima della trasferta di Verona, dove, guarda caso, sono stati schierati tutti e tre i nuovi Capuano, Benali, Benali, buona partita, la Benali, la pronuncia, buona partita la sua, e soprattutto Federico Ricci che è tornato, è dalla grandissima, era uno dei protagonisti della promozione in Serie A con Juric di due stagioni fa, un assist, una rete stupenda per lui, è una prestazione maiuscola che ne ha fatto il migliore in campo. Voglio ringraziare la società, perché la società ha fatto uno sforzo enorme per portarmi tre giocatori entro giovedì, massimo venerdì, e la qualità di Ricci, la qualità di Benali, l'intelligenza tattica di Capuano hanno aiutato questa squadra a far sì che... ha fatto questa prestazione, che è una prestazione importante, ed è una prestazione che ripaga delle tre precedenti partite dove non avevamo preso punti, ma avevamo fatto comunque discretamente bene. Oggi si esce dal pressing non più con la fisicità e con la corsa, ma con la qualità, giocando a calcio. Ecco perché ho fortemente voluto Ricci, ho fortemente voluto Benali, Stojano è un altro giocatore di qualità, mi manca Nalini, guarda che gol che fa Ricci. E quindi cercando di portare questi giocatori con mentalità offensiva, che cercano sempre il gol, che cercano sempre l'assist, è chiaro che ti viene anche più semplice attuare un tipo di calcio. Noi l'abbiamo fatto bene in tante partite, poi quando giochi contro squadre come Lazio, Milano e Napoli ovviamente la differenza la fa l'altra qualità degli altri, quindi magari a volte paghi, però i giocatori stanno lavorando bene e domenica ci aspetta un'altra partita estremamente fondamentale per noi in casa col Caglia. Sono molto contento, soprattutto perché venivo da un periodo difficile, ho avuto qualche infortuna, qualche situazione dove non ho mollato, ho dovuto soffrire e ora ho avuto questa opportunità per ritornare a essere protagonista e penso l'ho sfruttata e ora voglio continuare così, far bene, aiutare la squadra e questa vittoria è stata una grande gioia. Sono contento che la squadra finalmente ha fatto risultato, perché comunque il gioco del mister da quando è venuto si è visto pure prima, solamente che i risultati non erano dalla nostra parte, a parte il fatto che abbiamo incontrato delle forti del calcio italiano. Quindi siamo, come hai detto tu, giornata perfetta, siamo contenti. Sì, sulle qualità dei giocatori che sono arrivati non c'era dubbio, Federico lo conoscevamo, Benali da avversario e Capuano un tempo fa avevo giocato con lui a Pescara e sapevo che è giocatore, quindi siamo contenti per loro, siamo contenti del loro arrivo e speriamo come collettivo di andare sempre più avanti. Il telegiornale termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima edizione, buona serata.